Antonio Nicoletti, direttore generale dell'Agenzia di promozione territoriale della Basilicata. È bello poter essere qui a Napoli per celebrare la ripartenza del turismo in una stagione che ci consente di celebrare l'ottimismo e la gioia di poter vivere il viaggio, l'esperienza del viaggio e l'emozione del viaggio come siamo abituati a fare ma anche meglio. E questo è il sentimento che come APT Basilicata abbiamo mantenuto nella nostra comunicazione per promuovere una regione di 10.000 km2 dove è possibile vivere il paesaggio, l'ambiente incontaminato, la natura che contiene dei tesori di esperienze e di valori che ci vengono dalla nostra lunga storia di Lucani. È una regione accogliente, è una regione dove l'ambiente è una parte strutturante del nostro territorio e dove la diversità di paesaggi e di culture consente al viaggiatore sia che si fermi per un fine settimana sia per un mese di poter diversificare le proprie esperienze di viaggio. Dal mare incontaminato di Maratea, l'ottava meraviglia del mondo come la definiva Indro Montanelli, alle spiagge sabbiose del metà pontino con le dune e le aree protette ma anche con il ricco patrimonio di tesori archeologici della Magna Grecia. L'entroterra è la grande area di sviluppo del nostro turismo dove tanti borghi di ricca cultura enogastronomica consentono ai viaggiatori in bicicletta, a piedi o con ogni mezzo di poter scoprire quello che la nostra terra ha da raccontare. C'è il nostro tesoro di Matera, città capitale europea della cultura nel 2019 e patrimonio UNESCO e centro del parco regionale delle chiese rupestri che è connessa anche con delle ciclovie per cui vi invito anche a scaricare la nostra app sul cicloturismo, è connessa con tutto il resto della Basilicata fino alla montagna Potentina, al Vulture, al Pollino, al Volo dell'Angelo del parco di Gallipoli Cognato e mi piace ricordare i due parchi nazionali, non solo il Pollino ma anche il parco dell'Appennino Lucano dalle Alte Vette e Valdagri da Conegrese che sono due parchi nazionali che quest'anno dal luglio del 2021 saranno uniti dal ponte tibetano più lungo del mondo. 586 metri di passeggiata mozzafiato a Castel Saraceno per immergersi in una natura incontaminata che è una esperienza totalizzante per il corpo, per la mente, per i sensi e per il benessere che tutti noi andiamo cercando in questa nostra stagione 2021. Vi aspettiamo in Basilicata!